il trenino giallo andiamo al pokémon caffè col trenino giallo quest'aria ancora così natalizia che proprio al 3 di febbraio proprio al bacio comunque a scanso di equivoci se non lo trovate è qua siamo arrivati al pokémon caffè e la prima cosa che vediamo è uno snorlax gigante siamo in fila per il nostro tavolo in quale area capiremo magari nella snorlax area ok stiamo aspettando il nostro turno per avere un tavolo al po con un caffè qua c'è la mattina delle aree vediamoci capiti la snorlax area viola, viola, bluetto, il pietro rosa o il pikachu anche che no secondo me ci capiterà il gigli papo stona con il mio nero ma sai che con la sfiga che abbiamo noi chiara noi siamo portatrici di sfiga quindi abbiamo avuto la fortuna che ci è capitata la ivi area guarda guarda guarda, guarda, che carinhe guardale! come mansa le insieme! oh, sta con la conferenza oh, che carina che in un nostro tavolino! ma che carino dopo voglio una pata allora poi al tavolo ti danno una tovaglietta a me è uscito papimocci papimocci e alla Chiara è uscito il maiale che è guruton e dopo ordiniamo qua dal tablet e aspetto la Chiara che è andata in giro a fare le foto allora per ordinare come funziona allora abbiamo il tablet c'è anche l'inglese available e qui ci sono i menu vari i latte con i vari disegni food, cibo abbiamo questo pika plate che l'abbiamo preso io, Pikachu e Chiara ha preso Livi i dolci e i drink molto kawaii e certi se paghi un po' di più tipo questo costa 6,60 però se tipo lo paghi 1430 puoi tenerti anche la tazza noi abbiamo deciso che berremo acqua però intanto acqua c'è un ditto pika la dietro che ti osserva eccolo la ditto comunque è bello notare che quando la gente viene in questi posti sono sempre tutti felici guardate che sorridono vero e Chiara? sì sì sono sempre tutti felici ammiriamo il pika piatto mi ricordo già più cosa c'è dentro però tipo questo è un hamburger poteto patate poteto patate poteto patate io ho il pomodoro il tuo cos'è oh no il pomodoro ma fai una foto al tuo col mio dopo sì mi sono appena accorta che anche le posate sono del pokemon cafe è in pandan che un pikachu ora sta per succedere qualcosa nel mentre è arrivato anche il nostro drink un ditto drink vabbè è fantastico però non ci ha fatto il giochino e non torna per il giochino speriamo sarà meglio per lei vediamo che succede qua che succede qua insomma no non leggo fin là no non leggo fin là cosa mi stai dicendo il ginger drink il ginger drink oddio ma la luce è dentro oddio ma lo voglio anch'io ecco il grape non lo bevi lo bevo io via no vabbè il grape si dai anche il nostro ha la luce comunque sì ma la luce ce l'ha sotto no si aspetta e cambia anche il colore guarda sì dai facciamo anche questa mattata e andiamo spenderemo un capitale però diciamo vabbè dai non capisco perché adesso ci hanno fatto rimettere la mascherina ma io volevo mangiare cioè c'è la cilata dei pikachu c'è la cilata dei pikachu ma sono dei pupazzi perché mi devo mettere la mascherina perché passano con me perché non vogliono riuscire il papa king d'addorso va bene adesso adesso vediamo cosa succede sento la canzone di pikachu oddio è qua bravi no va prima di là vieni di qua ciao arriva ciao pikachu ciao ciao è finita è una vieni anche di qua ah ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.